Chi è lei? Vediamo, noi adesso partiamo con queste due cose, che sono l'abolizione dell'euro, il referendum sull'euro, poi sarà sì o no, poi deciderà anche il popolo italiano, con i banchetti, faremo i banchetti, sei mesi di film, se portiamo 3 o 4 milioni in Parlamento può succedere anche un miracolo, chi lo sa, magari la Lega o una parte di Forza Italia che ha fatto la campagna politica per uscire dall'euro, magari voterà a favore dall'uscita dall'euro, avremo i due terzi del Parlamento, potremo fare il referendum e uscire davvero, chi lo sa, noi stiamo dentro un sistema che non è più democratico, che fanno i voti di fiducia, si baricano dentro, non hanno assolutamente rispetto per nessun tipo di opposizione, noi abbiamo programmi, abbiamo fatto cose, la stampa non ne parla, ecco perché io ce l'ho con questa gente, ce la posso avere, ho delle motivazioni serie.